bentornati su my football jersey vi mostro questa maglia del paris saint germain che avevamo già visto in edizione fan trovate qui in auto recensione questa è sempre una edizione fan però come vedete a manica lunga ciao la maglia è bella poi le maglie comunque del paris saint germain hanno sempre un certo fascino anche se tanti campioni l'hanno lasciata molto bella fatta benissimo mi piace questa manica lunga ne prenderò altre il costo lo vedete qui sopra decidete voi cosa fare vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia andate a vedere perché per i nuovi iscritti c'è anche un link per ottenere un coupon da 5 dollari quindi cosa aspettate ora vi lascio la parte finale prima però iscrivetevi al canale a voi non costa nulla ma ci permette di mostrare maglie come queste tutti i giorni per oggi è tutto alla prossima ciao 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 ciao